Un viaggio ricco di emozioni, non lo nego, perché quando sono andato qualche mese fa verso febbraio a Milano a raccogliere la pergamena del Museo dei Giusti che doveva essere concesso alla famiglia Heder a fronte di quanto fece l'ufficiale Eric Heder nel 1944 al Beato Sante, raccorsi la pergamena per conto della famiglia che non poteva muoversi, vista la crisi pandemica, non poteva muoversi dalla Germania a raggiungere Milano, ci andai io come primo cittadino di questo nostro piccolo e meraviglioso comune. All'ottenimento di quella pergamena mi promisi che avrei raggiunto la Germania nello stesso modo in cui l'ufficiale Heder sciolse il voto nel 1953 al Beato Sante, infatti lo stesso ufficiale nel 1944 quando fu salvata la sua vita e quella di tutte le persone che lui salvò nelle grotte del santuario decise di fare un voto al Beato Sante, un segno di riconoscimento per tutto quello che succedette e successe a quel tempo e quindi nel 1953 tornò in bicicletta, io immagino una bicicletta pesante in mezzo a tante strade fatte di brezza e quindi non di asfalto come ho avuto la fortuna di affrontare io, raggiungo il Beato Sante per sciogliere quel voto che insomma teneva tanto, quando una promessa vale più di un contratto, cose che insomma abbiamo tanto da apprendere a fronte di quelli che erano i valori di una volta e pertanto mi sono detto anche io devo farlo stesso, devo farlo in nome per conto delle scuole, visto che stiamo lavorando per loro, per lasciare il testimone della memoria, in nome per conto della famiglia, delle figlie Sarano, di tutto quello che è la comunità mombaroccese che tanto sente questa cosa e che tanto ha cuore questi percorsi legati alla memoria, una memoria che questa volta abbiamo vissuto anche, posso dire dal punto di vista dell'ecosostenibilità e comunque della mobilità sostenibile, visto che l'abbiamo fatta su due ruote, percorrendo chilometri, percorrendo emozioni, percorrendo tragitti bellissimi che hanno unito la natura all'ecosostenibilità, al valore morale e nonché alla cultura di tutto quello che è stato il pregresso. E' stato meraviglioso perché l'accoglienza dopo tantissimi chilometri, mi creda che martedì di mattina sono arrivato verso luna a Farkirken, ero molto stanco, ero molto provato obiettivamente, perché non sono un grande atleta, un grande ciclista, ma insomma ci tenevo a farlo e l'accoglienza è stata meravigliosa, importante, sentitissima, consideriamo che Farkirken per di più sorge a 25 chilometri dalla città natale di Hitler, che insomma è lì al confine, io ho sentito in quelle figure che mi hanno accolto, fra cui il giudice della Corte Scostitizionale della Baviera, il sindaco di Farkirken, anche tutta la coalizione che l'accompagna nel suo mandato, un forte desiderio di rivalse, di stacco da quello che è il timbro che gli è stato dato nella seconda guerra mondiale, quindi c'è una forte voglia di rivendicare qualcosa che non gli appartiene e quindi staccarsi da quello che è stato l'olocausto, staccarsi da quello che sono stati il buio di quel periodo e far vedere al mondo e far vedere almeno in quel momento a me che sono ben altra cosa, è che la solidarietà, il confronto, l'indiscriminazione sono parte della loro collettività, della loro comunità e questo l'ho percepito in maniera veramente forte ed è un bagaglio che mi sono portato a casa ancora più importante rispetto agli obiettivi che mi ero posto inizialmente.